Abbiamo difeso l'inestimabile valore della scuola. Parlando al forum della pubblica amministrazione, la ministra Zolina difende la scelta del governo delle chiusure differenziate degli istituti. Da domani fino al prossimo 3 dicembre scatta la didattica a distanza per le superiori. Saranno possibili in presenza solo attività laboratoriali e la frequenza per alunni con bisogni educativi speciali. Nelle regioni in area rossa, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria, resteranno a casa anche i ragazzi di seconda e terza media. Un ritorno alla didattica a distanza che però, sottolineano gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, deve essere solo di breve periodo per il benessere psicofisico dei ragazzi. Un allarme rilanciato da pediatri e pedagogisti. La didattica a distanza innanzitutto è più impegnativa dal punto di vista della concentrazione. Cioè sia chi la fa che chi la subisce, se posso dire, fa più fatica. Quindi ne deriva che non è una cosa sostenibile per molto tempo e quindi è meno efficace poi di fatto. Manca poi quell'effetto sociale di trascinamento che, come hanno dimostrato gli studi, consente di migliorare l'apprendimento quando si sta in gruppo. Non trascurabili poi sono le situazioni di disuguaglianza che si generano. Avere il device, avere una buona connessione, se sei piccolo, avere un genitore o qualcuno che ogni tanto ti dà una mano. L'auspicio quindi è di limitare nel tempo l'uso della DAD, anche perché la scuola resta comunque un presidio di igiene. La scuola è più sicura che un qualsiasi altro luogo di aggregazione dove non esistono regole e tutto è affidato al singolo. Perché nella scuola non è affidato al singolo, ci sono delle regole da seguire. Tu non entri se prima non fai questo, no, ti tieni la mascherina se quando fai questo.